Ecco il riscaldamento della Virtus Castelfrentano, agli ordini di Mr. Gabriele Di Felice, non aggiornata di andata, Virtus Castelfrentano, RIPA 2007. Ecco il riscaldamento dei nostri ragazzi, da questo lato c'è i ragazzi che partiranno dalla panchina, sicuramente durante la gara faranno il loro ingresso in campo, si riscaldano anche loro, da quest'altra parte si vede Mr. Renato, il Presidente e il responsabile dell'area tecnica che sta preparando i portieri, il nostro Massimini numero 12 e il nostro Matteo numero 1.